Ho completato nel settore A, signore, e ora stiamo aprendo un barco nel settore B. Dobbiamo darci dentro, Carter. Voglio doppi turni di 12 ore. Non battiamo la piacca, è chiaro? Cristallino, signore. Bene. E il settore... Chiedo scusa, signore. Spero sia importante. È per la battaglia contro le terzi, signore. Il nemico è stato abbattuto, ma temo che sia stato un disastro anche per le nostre truppe, signore. Ma è... terribile. Terribile! Però c'è una buona notizia, signore. Un soldato è riuscito a tornare. Ma... che cosa hai detto? Si è sparsa la voce nella colonia, signore. E la regina ha chiesto di incontrare l'eroe di guerra. Ma che... Dai, ma che bello. Ci penso io. Congratulazioni, soldati. Sono... Sei un po' bassino per un eroe di guerra, no? Eroe di guerra? Signore, io non credo affatto di essere un eroe. Bene. Non mi piacciono gli eroi. Ma signore, lei non capisce. Io... Eroe di guerra. Ciao. Io... io non ho fatto niente. Voglio dire che è stato orribile. È stato un vero massacro. Un ma... un massacro... Su un massacro. Molto bene, soldato. Ora salutiamo. Ok. Non è stato colpa tua, Weaver. Non era previsto che andassero in guerra. Sapessi quanto mi sento male. Povero Zeta. Non avrei mai dovuto lasciarlo andare. Aspetta un momento. Quello non è un soldato. Quello è Zeta! Zeta! Il piccoletto è già fatta! Sì! Vira! Andate a te! Andate a te! Andate a te! Andiamo, soldato! Ciao! Cazzo! Cazzo!